I amici sono andati a scuola di zera, che non hanno avuto un po' di ruolo, possono dire che se c'è un'unità, non è 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 un'unità. Settiamo, dove ci sono andati a scuola di zera, che non li vediamo adesso, che vediamo adesso, che vediamo adesso, che devo vogliare, ... Poi mi vengono 35 anni, quindi voglio passare la chino a palla di chi ti è chiamati... Ho giocato un bel segno, di un bel gusto, mi piacciono tutti, sono un bel due raggio, ma è una bigлена e rispresento una bambina e fochi! Guardate i miei problemi, e rinceremo una tradizione su li scoglie e la lanza della benedetta, e ti commento me e gli macchini. Grazie a tutti. Noi abbiamo le bambine e qui abbiamo anche le bambine.